Il sinistro di Carlo Curti sull'affondo, adesso Scorda sulla destra per capire gioco, la pallone su Curti, Curti arriva, Scorda su di lui, senza pallo, recupera palla, Scorda da sinistra prova a rientrare, la conclusione respinta in corner dalla portiere. Adesso Moro serve dall'altra parte, Vitale, grado intervento del portiere che rischia un po' il refile, Vitale mette dentro per il vantaggio dell'Atletico Madrid dal decimo minuto. Adesso Moro imposta dal basso, si ebbe la grassa sulla destra, però è pressato, si torna indietro da Vingoni, ora ancora Moro gesisce il pallone. Vingoni da destra, prova addirittura la botta di destra e prova il raddoppio, 2-0 Atletico al tredicesimo. Adesso Curti prova al sinistro, il grande intervento qui di De Luca. Adesso il pallone indietro per Moro, Moro ha provato a seguire Testani, ma ha recuperato le derby che ora prova ad accorciare le distanze con questo destro di Montemori. Adesso la possesso Atletico, può provare ancora Mingoni il destro, sul fondo di Basile per Montemori. Ancora Basile, infine avanti, però per la difesa dell'Atletico che riparte il destro di Vitale. Atletico Mori, Sopepierno, occhio a Curti che è da solo, prova a Curti che accorcia le distanze per il derby county. Quasi allo scadere del primo tempo, 2-1. Ora Scorda, al limite Scorda per il 3-1 dell'Atletico. che torna immediatamente, due lunghezze sopra le derby county. Un gran gol dalla distanza di Alberto Scorda. Curti sul punto di battuta, è nato, c'è Basile libero, viene infatti servito, prova la botta di destro alta. Guardo Scorda. Serve Vitale sulla destra, Vitale se ne va, Vitale è da solo. Ma non è direttamente sul portiere, pericolo scampato dalla derby county, ma non del tutto. Perché adesso c'è Alberto Scorda che prova anche lui la botta in due terpi, il portiere del derby county. Un po' ancora da pieno. Sulla sinistra per Basile. Vede il movimento di Montemori che stoppa e prova un tiro. Un volo che finisce sul fondo. No per Basile, dentro, toccare Curti, grande intervento. Gran intervento di Alberto Scorda che manda il pallone in corner. Si incarica della battuta Basile. Ancora calcio d'angolo per il derby county. Dietro c'è... E' uno libero che prova il led destro. E' il pallone che è entrato. Ed è il 3-2 del derby county che accorcia le distanze. Lancio lungo la ricerca di Curti che stoppa bene il pallone. Non ha però compagni vicino a lui. Mi protegge in attesa che arrivi qualcuno. Mentre subisce il pressing dell'Atletico. Attenzione adesso alla ripartenza con Vitale da destra. Vitale prova il tiro. Brava, Gianni! Calcio d'angolo. Vitale. Aspetta, se ce l'ha fatto di saltare. Vitale è pressato da Curti ma lo salta. Vitale è libero. Arriva il 4-2. Dell'Atletico. Con Vitale. Il 39esimo. Moro prova a impostare. Serve la grassa sulla sinistra. Per ricerca. Moro che è da solo. Salta anche il portiere Moro. Per il 5-2. Che porta l'Atletico al sicuro. La goal di Moro. Andietro ancora per Montemori. Prova la botta col destro. Non è la corner. Non era battuto. Cercare dall'altra parte. Montemori che ha provato l'Euro goal. Di parte le derby cauti con Curti. Curti a sinistra. Basile. Occhio. Pierno che prova la conclusione. Ha una seconda chance. Pierno serve dall'altra parte. Basile che trova solo il palo esterno. Curti che prova la conclusione. Nel pallone entra. Accorcia di nuovo il derby county. 5-3 a 2 dalla fine. Con Carlo Curti. Che hanno lungo linea su Montemori. Ma c'è la copertura di Vitale. Adesso 2 contro 1. Prova il destro Vitale. All'altro. Grazie.